E' la dodicesima giornata del campionato di serie D, girone B, sfida fra Pro Palazzolo e Vigasio, partita importantissima al comunale perché entrambe potrebbero accorciare sulle rivali visti diversi scontri diretti. Sia Mr. Didu che Mr. Piccinato, sostituto capo allenatore del Vigasio, arrivano con tanta voglia di proseguire dopo le due vittorie nelle ultime due partite. Sfida che inizia con un intervento pericoloso, quello di Capitan Boschetti che si becca il cartellino giallo del primo intervento degno di nota di questa partita. Proteste per lui, ma il giallo ci sta. Poi lancio per il numero 11 Boni che ha la prima chance della gara col tiro alto sopra la traversa, schiena all'indietro, palla che si alza tantissimo. In tutta la partita c'è stata tanta carica da parte dei tifosi della Pro Palazzolo che qui hanno visto anche questo calcio di punizione e si è beccato anche il giallo. Bup, secondo munito della gara, Mr. Piccinato che ha condotto la sua squadra a un punto importantissimo. Vedremo come poi qui il colpo di testa di Ceravolo e poi il gol di Alessandro su assist pennellato da Conti. Colpo di testa del numero 10 che si sblocca su azione e il primo gol appunto su azione. Il secondo in campionato, match che si sblocca col gol dell'ex Rieti. Poi qui, altro intervento pericoloso stavolta di Ciccone, altro giallo anche per lui. Ci sta il cartellino dopo questo intervento e poi anche il calcio di punizione su destro di Casella che finisce alto. Secondo tempo che inizia con gli stessi 22 del primo. Poi il lancio del numero 9, ovvero Fanini e c'è il fallo e il giallo anche per Bane sono stati tanti, gli ammuniti a fine partita. Giallo anche per Boni dopo un intervento scellerato quasi, ai danni di un avversario, diciamo cartellino arancione. Poi il tiro di Tremolada, la risposta di Frison che anticipa anche Businarolo. Tremolada stremato a fine partita. Poi Arras, neo entrato, prova a calciare col destro. Poi altro intervento folle, quello di Tosi che colpisce alla testa l'avversario Lievi. Si becca un gran calcione. Invece si becca il giallo Tosi. Mister Didu soddisfatto ma non troppo. Altro caccio di punizione, quello di Alessandro che cerca forse il cross, forse il tiro. Cerca invece il tiro. Sicuramente Arras che viene murato ancora da Frison che fa praticamente anche il portiere. Poi qui l'imbucata meravigliosa di Oxa per Novelli che arriva. Batte il portiere Leonetti, pareggia la partita. Il neo entrato, due neo entrati perché anche Oxa era subentrato a metà secondo tempo. Palla illuminante, quella del numero 15 che spezza il raddoppio difensivo. Poi Novelli con un tiro di punta da calcio a 5. Batte il portiere avversario e pareggia. Una partita importantissima. Finirà così. Dopo poi c'è anche un cartellino rosso per proteste dalla panchina da parte del Vigasio con un giocatore che se l'è presa forse anche con i tifosi o comunque ha andato troppo ad esultare. Poi un'altra chance effettivamente c'è perché Enoch Barua cerca il colpo di testa, indirizza ma non trova la potenza giusta. Poi follia di Businarolo che rischia di farsela rubare da Arras. Ed è l'ultima azione. Finisce così, 1-1 tra Pro Palazzolo e Vigasio.